Professor Giuseppe De Natale, parlare di sicurezza del territorio a Ischia è sempre una buona occasione per fare qualcosa di utile per un territorio molto delicato. Sì, assolutamente, è un territorio molto delicato che racchiude in sé un po' tutti i rischi che sono distribuiti nella nostra penisola italiana e qui sono concentrati, però il vantaggio è che qui il territorio è molto piccolo, quindi mitigare il rischio sismico, mitigare il rischio idrogeologico si può fare e costa anche poco e può essere, proprio perché qui è molto semplice farlo date le dimensioni limitate, un esempio virtuoso per tutta la nostra nazione. Un piccolo laboratorio? Certo, un laboratorio in positivo perché poi è un laboratorio nel senso che risolve i problemi perché abbiamo visto che questi rischi poi alla fine se non sono affrontati, mitigati causano tragedie. Per quello che riguarda le cose da fare si parla sempre tanto di ricostruzione delle popolazioni colpite per esempio dal terremoto, di tornare a casa, di tornare nelle aree dove abitavano. Mi sembrava di capire che forse per quelle aree, almeno secondo lei, potrebbe esserci un futuro alternativo. No, il problema non è tanto il rischio sismico, si può affrontare, mentre per la questione del rischio idrogeologico ci sono sicuramente delle aree che devono essere interdette all'abitazione perché il problema idrogeologico può sempre riproporsi e si può costruire bene quanto si vuole, ma la casa viene trascinata via. Per quanto riguarda il rischio sismico, il problema è che gli edifici devono essere consolidati in relazione alla zona in cui stanno. Nella zona più alto rischio si deve costruire solo con criteri antisismici molto stretti. Ma si può fare? Si può fare e non costa molto. Noi abbiamo fatto una stima su un lavoro recente, anche pubblicato su una rivista internazionale, che con un centinaia di milioni si potrebbe mettere completamente in sicurezza la parte di territorio soggetta al rischio sismico, quindi Ischia con 100, magari anche 200 se vogliamo esagerare perché le cose poi costano sempre di più, si può completamente mettere in sicurezza l'isola da un punto di vista sismico per i prossimi 100-200 anni.